Siamo qui per proporvi il terzo workout della serie che utilizzeremo per rimetterci in forma. Dopo le feste di Natale, le mangiate, le bevute e quant'altro. Allora, quello che vi propongo oggi è un workout con quattro esercizi, formato da quattro esercizi, che faremo tutti a terra, a corpo libero. Quindi non avremo bisogno di nessuno strumento per fare questo allenamento. I mancabili naturalmente sarà il nostro orologio, il mitico orologio gigantesco che servirà per darci le tempistiche per le ripetizioni degli esercizi. Come al solito vi consiglio di fare una fase di riscaldamento buona, quindi una parte articolare e una parte cardiovascolare. Iniziamo l'allenamento, faremo un minuto, un minuto e mezzo di intervallo cardio e poi ci sarà una fase di stretching dopo aver ripetuto il circuito due o tre volte. A seconda di quanto vi sentite allenati, di quanto siete allenati o di quanto al contrario invece vi sentite di dover incominciare o riprendere un'attività fisica. Ok? Buon allenamento! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!